Ciao a tutti, sono Mattia Germoleo dell'Istituto Alberghiero di Villa San Giovanni. Oggi preparerò un primo piatto, fusilli con alici, olive taggiasche e salsa di pomodoro fresca. Gli ingredienti che andremo a utilizzare in questa ricetta sono fusilli del pastificio Sorelle Salerno, filetti di alici calipo, olive taggiasche, aglio, salsa di pomodoro fresca e olio evo ottobratico dell'Olearia San Giorgio. Iniziamo lessando la pasta. Iniziamo aggiungendo un filo d'olio. Successivamente andiamo ad aggiungere uno spicchio d'aglio a rosolare. Adesso aggiungiamo le alici. Adesso andiamo ad aggiungere le olive. Adesso andiamo ad aggiungere la passata di pomodoro. Una volta terminata la mantecatura andiamo a impiattare. Aggiungiamo delle olive di contorno e il piatto è terminato.